percorrere quella forse più semplice e meno tortuosa. Così è stato. Imputazione coatta per i fratelli Raffaele ed Angelo Lombardo, iscritti sul registro degli indagati nell'operazione Iblis per concorso esterno in associazione mafiosa. Il giudice di udienza preliminare Luigi Barone non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura imponendo l'imputazione coatta che in termini pratici significa che i PM sono obbligati entro 10 giorni a chiedere rinvio giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo dovranno fare anche contro la loro volontà e sulla base dei riscontri che sono emersi durante le indagini. Il presidente della regione dunque rischia adesso il processo per mafia. Su questa vicenda la procura aveva tenuto un profilo bassissimo imponendo il processo dinanzi al giudice monocratico per reato elettorale il cosiddetto voto di scambio e derubricandolo da quello più complesso e grave. Barone al termine dell'istruttoria camerale ha respinto dunque la richiesta di archiviazione presentata dagli aggiunti Patanè e Zuccaro con l'avallo tra l'altro il procuratore Salvi che ha sposato la linea scelta dai suoi due vice decisa ancora prima della sua nomina ai vertici della procura. Salvi stamattina ha commentato c'erano valutazioni diverse e la nostra posizione è stata sempre chiara e si basava su valutazioni giuridiche. Poi ha aggiunto continueremo a fare il nostro lavoro con la stessa serenità di sempre seguendo le indicazioni che sono arrivate dal giudice. Le altre due strade che il gruppo poteva percorrere ma che non ha fatto durante l'udienza camerale erano l'archiviazione a disposizione a compiere nuove indagini. La procura aveva riconfermato la richiesta di archiviazione dal fascicolo spiegando che la valutazione si basava sulla cosiddetta sentenza Mannino secondo cui non si sarebbe configurato il reato più grave malgrado vi sia stato un rapporto tra i politici e le organizzazioni mafiose.